allora voglio farvi vedere come fare la costa inglese sui ferri lineari ora questi sono circolari però la lavorazione è lineare non è circolare allora ci sono due modi il metodo proprio classico del punto a costa inglese questo qui che ho già fatto vedete un pezzettino è uno dei due metodi classici proprio per fare proprio la vera maglia inglese cioè in pratica che è una maglia che cresce un rigo si un rigo no rispetto a dei giri di ferri normali e è una maglia più spessa infatti proprio per questo motivo è più spessa e molto e molto elastica vedete è una maglia che rimane bella compatta infatti si usa molto per le rifiniture allora questo metodo qui che è uno proprio dei metodi classici per farla è anche molto semplice è anche uno dei più semplici allora si monta si lavora su un numero di maglie pari sempre pari mai dispari perché altrimenti ci sbagliamo sul numero di maglie pari e si inizia da un giro a dritto quindi il primo giro dei nostri ferri sarà un dritto ora io che ho caricato un po male le maglie mi è rimasto un buco comunque si si fa un giro a dritto il primo giro si fa a dritto dopodiché si inizia così dopo aver fatto un giro a dritto anche due in realtà nel nel punto proprio classico inglese prevede due giri a dritto il primo il secondo giro a dritto dopodiché iniziamo la costa inglese che si lavora così si parte con un dritto normale sempre e il secondo si entra non sulla maglia che è sul ferro ma su quella precedente cioè allargando la maglia che è sul ferro vedete si entra qua si entra qua si fa un dritto e si fa cadere la maglia poi un dritto normale e anche qui vedete si tira e si entra qua in questa con questo spazio proprio vedete sotto la maglia che sarebbe la maglia precedente per questo motivo si salirà un giro sì e un giro no perché torniamo sempre a lavorare una maglia del giro di sotto quindi una maglia normale e vedete si allarga proprio la maglia che sul ferro sinistro fino a trovare bene la maglia precedente e si prende da qui il filo e si fa cadere la maglia che è sul ferro 1 a dritto e 1 sotto sempre così si lavora 1 sotto vedete presa sotto e un dritto normale una presa sotto e un dritto normale per riconoscerle i primi giri sarà un po più difficile quindi dobbiamo stare attenti a non sbagliare i primi giri quindi ricordarci sempre bene di fare di non confonderci fare sempre una un dritto preso normale è un dritto vedete preso sotto un dritto preso normale e l'ultima io la lascio a dritto anche l'ultima faccio una costolina che poi servirà per uscire quando chiuderemo il lavoro quindi giro il mio lavoro è uguale essendo un numero di maglie pari in automatico mi verrà già sfalzata e mi verrà che l'ultima che io lavoro a dritto normale è quella ora questa no perché è quella che io ho comunque lavorato a dritto anche se dovevo entrare sotto e adesso la lavorerò a dritto questa è quella che io ho già lavorato a dritto prima e che quindi io prenderò sotto quindi e viene già in automatico le maglie si presentano giuste essendo appunto un numero pari di maglie se carichiamo appunto un numero pari le maglie saranno se farà sempre così la prima a dritto e la seconda nel rigo di sotto la prima a dritto e la seconda nel giro precedente facciamo sempre così quindi fatti un po di giri però che si inizia a vedere il motivo vedete che sta uscendo quindi ci sono queste costoline davanti e queste più indietro a questo punto è facile riconoscere se ci viene il dubbio di aver per dover prendere una maglia davanti o dietro questa qua che è diciamo sul rovescio vedete nella parte che rientra in dentro è quella che noi lavoriamo a dritto normale quella che invece vedete sporge in fuori quella in cima quella che sporge in fuori e quella che noi prenderemo nel del giro precedente vedete questa è nel giro diciamo in dentro quindi è un dritto normale questa che è sporge in fuori la prendiamo vedete proprio sotto in pratica questa maglina qui che sarebbe la maglia che chiude questa è la punta diciamo è il sopra della maglia che andiamo a prendere vedete quindi io entro proprio qua sotto sotto questo questa maglia orizzontale io entro in questa maglia proprio qui sotto e la lavoro normalmente a dritto e faccio cadere la maglia quindi un dritto normale e un dritto preso dal giro precedente un dritto normale e poi l'ultimo io lo faccio comunque a dritto normale ecco qua vedete questo è il risultato come vedete è proprio la classica costa inglese qui se contiamo il numero delle maglie sarà esattamente la metà dei giri che in realtà abbiamo fatto perché la costa inglese è così che cresce e questo è il risultato è molto bella vedete su tutti e due lati e questa è proprio la classica costa inglese c'è anche un altro modo di lavorarla sempre un metodo classico adesso vi farò vedere lo farò nel prossimo tutorial vi farò vedere anche l'altro metodo che è sempre il metodo classico dopodiché esistono anche dei della falsa costa inglese che poi vi farò vedere successivamente grazie